Eno gastronomia, sport, borghi e natura. Il turismo ecosostenibile in Toscana è stato il tema su cui i sindaci di alcuni comuni del territorio Maremma Nord hanno discusso nelle sedi europee incontrando i rappresentanti di regione toscana a Bruxelles per rafforzare le sinergie tra comuni e per scoprire cosa possono offrire le politiche europee nel settore turistico. 8 i comuni del Grossetano che hanno preso parte ai lavori Follonica, Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Monte Rotondo Marittimo, Scarlino, Castiglione della Pescaia e Gavorrano. Bruxelles è un palcoscenico importante per presentare la Maremma Toscana e poi anche per un sistema di relazioni con le istituzioni europee che ci servono anche come modo per capire quelle sono le opportunità che l'Europa offre ai singoli territori in queste settimane concentrandosi su alcuni tematismi particolarmente per noi prioritari in questo momento, quindi dicevo il tema dei borghi, il tema delle eccellenze enogastronomiche, delle produzioni di olio, vino, formaggi o delle cantine architettoniche e il tema dello sport. Non solo cucina ma anche mare e ciclismo. L'attore principale è il mare, il balneare. La maggior parte dei turisti appunto vengono da noi per la bellezza delle nostre spiagge e del nostro mare. Del cicloturismo in particolare per quelle infrastrutture che devono ancora nascere, che diventano veramente fondamentali per lo spostamento dei flussi anche da tutta Europa. Riguarda la parte della sentieristica all'interno dei piccoli borghi perché è una nicchia particolare di nuova filiera del turismo. Abbiamo anche delle eccellenze di livello enogastronomico che ci contraddistinguono dagli altri territori perché abbiamo dei prodotti tipici che fanno del nostro territorio proprio un'attrazione turistica.